Siamo con Di Luca Matteo, San Pajac Gym. Allora, com'è andato questo match? Bene, decisamente bene. Ho impostato subito un buon ritmo, il ritmo che volevo impostare. E niente, bene, gli allenamenti pagano. Senti, da quanto è che ti alleni? Da quanto pratichi sport da combattimento? Sono, questo è il sesto anno, agonismo, però sono due anni e mezzo. Senti, allora, parlaci di questo match, com'è affrontato questo match, qual è stata la strategia? La strategia, non c'è stata la strategia di fondo. Già dall'inizio cerchi di inquadrare il più velocemente possibile l'avversario e da lì poi ti muovi per impostare un match come credi sia meglio. L'avversario non era molto incisivo, quindi potevo mettere fuori i colpi e poi si è stare miei. Senti, gli diamo al tuo coach di parlarci appunto di te, di come ti stai golvendo nella tua carriera di agonista. Matteo è un ragazzo molto molto tecnico, con delle caratteristiche di stile, di tecnico, veloce. Ora stiamo piano piano iniziando a caricare anche di più i colpi e penso che potrà dare tantissimo la moità italiana perché poi è partito bene e sta andando meglio, quindi siamo contentissimi. Grazie di questa intervista, andiamo a vedere il prossimo match. Allora, complimenti alla Sampa Yang Jip. Grazie a tutti.